Please hang up and try again. Seconda giornata di Ecomed, un appuntamento immancabile che continua ad essere attenzionato anche dalla regione siciliana. Una tematica importante è quella che riguarda l'energia, ovviamente anche la sostenibilità e i rifiuti e naturalmente anche la sua presenza a darne valore. Sì, assolutamente. Abbiamo visto cosa significa transizione ecologica, cosa significa economia circolare. È un bellissimo evento di alto livello al quale abbiamo voluto partecipare con i parchi, le nostre riserve, aree protette e ARPA perché abbiamo voluto testimoniare quanto importante è la biodiversità e quindi quanto importanti siano queste iniziative che permettono la convivenza tra ambiente e sviluppo economico senza arrecare danno a nessuno. Come try again.